benvenuti o bentornati tutti quanti su questo canale il periodo è quello natalizio la cravatta quella rossa l'intenzione è quella di farvi e di farci gli auguri non è facile trovare altre parole alla fine di quest'anno quindi se lo desiderate trovate un breve articolo sul website e di cui trovate anche i link qui io desidero veramente qui solo fare gli auguri a tutti voi auguri virtuali a maggior ragione adatti al periodo che stiamo vivendo invitarvi e invitarci ad affrontare le sfide giorno per giorno e veramente ancora un sentito augurio a tutti e arrivederci alla prossima